Ok, allora, inizio mentre finite di sistemarvi, con un avviso sulla settimana prossima. Sappiamo che il primo novembre non c'è lezione, essendo messo di mercoledì non c'è ponte né prima né dopo, però il mercoledì noi abbiamo ben tre ore di lezione e una squadra di laboratorio, quindi per non perdere proprio il tutto e soprattutto per non perdere la sincronizzazione tra le varie squadre, cerchiamo di recuperare un pochino ciò che la festività ci fa perdere. In particolare, la squadra numero tre di laboratorio, che di solito fa il mercoledì pomeriggio, può venire il giovedì, insieme alla squadra uno o alla squadra due, non stiamo a fare una divisione precisa perché tanto è una tantum, so che di solito c'è sempre qualcuno in più, la squadra uno è sempre un pochino più piena per ragioni di comodità di orario, però la squadra due uno ha tempo di andare a prendere un panino prima, quindi cercate di dividervi tra le due squadre. Quindi il 2 novembre, giovedì, avremo nei laboratori, laboratorio 4, con la squadra uno più un pezzo di squadra tre e squadra due più un altro pezzo di squadra tre. Cerchiamo di starci, ok? Per quanto riguarda le lezioni, invece, e questo è uno dei motivi per cui stavo un po' cercando di accelerare queste lezioni, non riusciamo a recuperare le ore, ma ne recupero un pezzo, nel senso che ho aggiunto una lezione il 31, ok? Che è martedì, in cui normalmente non ci sarebbe informatica, ma alle 4, alle 16, quindi avete tempo di andare a casa, mangiare, eccetera, facciamo la lezione online. La continuazione della lezione che abbiamo fatto la prima volta è sulla numerazione, vedremo i numeri relativi, i numeri reali, eccetera, ok? Così non perdiamo proprio tre ore, una e mezza la recupero, andiamo avanti con la teoria e ci troviamo, non ci troviamo infognati nella parte finale del corso dove invece mi piace lasciare del tempo per fare tanti esercizi d'esame, ok? Il link è scritto qua sul sito, è lo stesso della volta scorsa, ve lo ricordo comunque sul canale, stiamo parlando di martedì prossimo, ok? Va bene, detto ciò, oggi proviamo a dare un'occhiata a quei quattro esercizi così che vi avevo lanciato, riepilogativi sui cicli che poi in qualche modo sono anche un po' di riscaldamento sulle condizioni e sulle stringhe che servono anche un po' di riscaldamento per il laboratorio di questa settimana. Poi iniziamo l'altro grosso argomento che è quello dei cicli su cui ci fermeremo due settimane abbondanti esercizi tra esercizi in aula e esercizi in laboratorio. Allora, vediamo i quattro esercizi che avevo proposto. Il primo è classica equazione di secondo grado, in cui si tratta di scrivere il programma per risolvere un'equazione di secondo grado, proviamo a vedere insieme una soluzione. Allora, noi dovevamo acquisire dei valori di tre coefficienti in equazione di secondo grado e risolverla. Quindi di fatto dovremmo, diciamo l'utente, risolvo l'equazione ax al quadrato più bx più c uguale a zero e chiederò all'utente rispettivamente il valore di a, dimmi il valore di b e dimmi il valore di c. Usando delle input e chiaramente convertendo subito il numero, la stringa ricevuta letta dall'input in numero reale, sperando che l'utente abbia scritto effettivamente dei numeri reali. A questo punto ci sono le varie casistiche. Una prima casistica è verificare che sia effettivamente un'equazione di secondo grado, cioè che a sia diverso da zero. All'ora è di secondo grado. Se invece a è uguale a zero è di primo grado. E si risolve in modo diverso. Il programma a monte non lo sa. E quindi dovremmo andare a distinguere questi due casi. Se a è uguale a zero faccio delle cose, altrimenti ne faccio delle altre che saranno al primo grado. Io poi ho scritto qua 0.0, scusate, ringrandisco ancora un po' perché forse da lontano non si vede. Ho scritto 0.0 anziché zero per ricordarmi che è un numero reale. A è un numero reale quindi lo confronto con un numero reale. Se avessi scritto zero semplice non sarebbe cambiato nulla, sarebbe stato un intero che viene immediatamente convertito in reale per poterlo confrontare. Però così me lo ricordo un po' di più. Però mi ricordo anche che abbiamo detto quando ho dei numeri reali l'uguale me lo devo dimenticare. Il confronto di uguaglianza me lo devo dimenticare perché ci sono tutti gli errori di approssimazione che si possono saltare fuori. Quindi magari non è 0, è 0 uguale a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, però lo devo considerare come 0 e l'ugualianza non mi fa questa cosa. E abbiamo detto ogni volta che vogliamo confrontare, vorremmo nel nostro intimo confrontare due numeri reali e chiedersi se sono uguali, in realtà non usiamo mai l'uguale ma usiamo sempre la funzione isClose. Matt.isClose, quindi importando il modulo matt nel programma, la funzione isClose mi dice se A effettivamente è uguale, è abbastanza vicino da poter essere considerato uguale a 0. In questo caso isClose uguale a 0, se vogliamo che non lo sia mettiamo not, se A non è uguale a 0 allora siamo nel secondo grado. Io ho messo questo not perché avevo scritto prima il caso diverso da 0 e poi il caso uguale a 0, se li scambiassi chiaramente tolgo il not. Allora, l'equazione di secondo grado, noi sappiamo che si risolve in modi diversi in funzione del famoso delta del discriminante, che posso calcolare come, cos'era, B quadro meno, scusate, B alla seconda meno 4AC. L'operatore di elevamento potenza in Python è doppio asterisco. Ok? Questo è un calcolo che si può sempre fare. Non ha divisioni per 0, non ha cose brutte, non ha radici negativi ancora, quindi posso sempre fare questo calcolo, non ho bisogno di andare a fare dei controlli. I controlli li faccio sull'esito di questo calcolo. Questo mi può dare un discriminante positivo, negativo o nullo e quindi vado a controllare i tre casi. Controllo magari prima il caso nullo e qui di nuovo dovrei scrivere if delta uguale a 0, ma l'uguale non me la sento di scriverlo, soprattutto sulla base di un calcolo che ha dentro le potenze delle moltiplicazioni e quindi anche qua metteremo se il delta è uguale a 0, praticamente uguale a 0, allora sarò nel caso in cui ho una soluzione. Altrimenti, anzi, ho il caso in cui delta è maggiore di 0 e altrimenti ancora avrò il caso, quindi ho due soluzioni, altrimenti avrò ancora il caso in cui ho nessuna soluzione. Allora, se ho una soluzione, questa soluzione sarà a, sappiamo che meno b fratto 2a, perché la radice delta fa 0, quindi meno b diviso 2a, attenzione la parentesi, bisogna metterla altrimenti fa diviso 2 e poi il risultato lo moltiplica per A e quindi diciamo sei bravo. E poi diciamo print una soluzione, due punti X e mettiamola con, non so, tre cifre decimali. Altrimenti se abbiamo due soluzioni, vabbè, mi calcolo le due soluzioni, come X1 uguale meno b più radice di delta, mat.sqrt di delta, che so che si può fare perché è positivo, fratto 2a, quindi qui bisogna fare attenzione bene con le parentesi, e l'X con 2 invece è la stessa cosa, anzi chiamiamola, sì, X con 1 quella con meno, X con 2 quella con più, così li mettiamo in ordine e potrò stampare che ho due soluzioni soluzioni F, due soluzioni che sono X con 1 con tre cifre decimali e X con 2 con tre cifre decimali. altrimenti non ho nessuna soluzione reale. quindi abbiamo due if anni dati, uno per dire siamo in secondo grado, sì, se sì ho le tre casistiche di zero, una o due soluzioni. Questa divisione per A non mi spaventa perché A è diverso da zero. Sono sotto un ramo if che ha controllato che A fosse diverso da zero, quindi dividere per A, due A vabbè, non mi spavento. Così come quando faccio la radice quadrata, sono in un ramo che ha controllato che l'argomento di questa radice fosse maggiore di zero e quindi la radice si può calcolare. Dobbiamo sempre andare a metterci nelle condizioni di poter fare i calcoli che vogliamo fare. proviamo a testare questa parte, non so, prendiamo 1, 2, 3, 1, 2, 3, non so se sto mettendo il numero a caso, ovviamente mi dice nessuna soluzione. Se io prendo 1, 2 e meno 3, mi dovrebbe dare due soluzioni che sono meno 3 e 1, voi che siete più allenati di me, dovrebbero vedere a occhio che è giusto, e così via. Adesso la famosa quadrato perfetto, se io metto 1, 2, 1, dovrebbe dirmi che c'è una sola soluzione, questa è x più 1 alla seconda e quindi la soluzione è x uguale a meno 1. 1 meno 2 è 1, mi dovrebbe dare 1. E ci manca ancora il caso in cui, poi chiaramente bisognerebbe provarlo con altri numeri di cui si sa il risultato per vedere che sia tutto corretto, però insomma è abbastanza semplice. Il caso del primo grado, vabbè, A non c'è e quindi abbiamo un'equazione che è solamente della forma bx più c uguale a 0, che è effettivamente un'equazione di primo grado ma solo se b è diverso da 0. Quindi andiamo prima a verificare che b sia diverso da 0, perché altrimenti stiamo facendo meno c fratto b, se b è 0 qualcuno si arrabbia. Quindi prima di tutto verifichiamo che b sia diverso da 0. rifaccio lentamente quello che ho appena fatto per farvi, io ho scritto x clause sapendo che è un metodo di math e lui ovviamente mi propone una serie di suggerimenti. Se notate che x clause ce ne sono due, una nella libreria math e l'altra nella libreria c math. C math è la libreria per i numeri complessi. Quindi fate sempre attenzione quando accettate un suggerimento che lui vada poi a pescare effettivamente la libreria, che vi serve perché ci sono metodi con lo stesso nome in librerie diverse e se prendete il metodo sbagliato poi non ci capite più niente, più che cosa fa il programma. Ok? Quindi in questo caso vado a prendere quello math che è ben visibile qua davanti. Oppure lo scrivo ma non è per carità. Abbiamo detto che b è 0, quindi io sono sicuro che a questo punto b è diverso da 0 e quindi la soluzione sarà meno c fratto b. E posso scrivere lo stesso messaggio che ho una sola soluzione per un motivo completamente diverso, perché questa volta è un'occasione di primo grado anziché di secondo grado con una sola soluzione che sarebbero due coincidenti, ma vabbè. altrimenti sono nel caso in cui b è uguale a 0. E se b è uguale a 0 cosa posso dire? Posso dire che non è un'equazione, perché non ha più nessuna incognita, è del tipo c uguale a 0, dove c è una costante. Quindi questa o è un'identità, 0 uguale a 0, o è una falsità, 7 uguale a 0. Ok? Quindi a questo punto in funzione del valore di c, anche qua, se c è uguale a 0, se c è uguale a 0, allora sono nella forma 0 uguale a 0, quindi un'equazione che chiamano indeterminata. Altrimenti se invece c è diverso da 0, scusate c è diverso da 0, ricordate che io qua scrivo c è diverso da 0, ma sono sotto un else in cui sapevo che b era uguale a 0 e sono sotto un else in cui sapevo che a era uguale a 0. Ok? Quindi in un determinato punto del programma io ho una serie di fatti noti per certo che sono tutti quelli che derivano dalla verità o falsità delle condizioni che ho trovato vero o false secondo che sia nel ramo if o nel ramo else. E quindi posso dire che tutti e tre i coefficienti sono 0 o approssimabili a 0 con la regola dell'isclose e quindi dirò che l'equazione questa volta invece è impossibile. 7 uguale a 0 è un'equazione impossibile. In questo caso se io vado a prendere a uguale 0, b uguale 1 e c uguale 3 mi dirà che la soluzione è meno 3. Se invece faccio 0, 0, 2 mi dice che è impossibile e così via. Quindi ci sono i vari, se non ho contato male dovremmo avere 7 casi possibili che dipendono chiaramente dai valori di nullità o non nullità dei tre coefficienti e del discriminante dell'equazione di secondo grado. No, questa è abbastanza classica come esercizio. La serie di casi devo analizzarli con calma e non fare le formule giuste nei vari casi. Questo lo vediamo per ultimo. Quest'altro di O anche semplicino era giocare sulle stringhe e diceva guarda io se ho dei nomi, delle parole che finiscono con O, mettimi l'alternativa della stessa parola che finisce con O oppure A, quindi maschile o femminile, facendo finta che la regola del femminile sia così semplice, ma stiamo giocando con le stringhe, viceversa se termina per I sostituisci I oppure E e se invece non termina né per O né per I lascialo così com'è. Quindi ho un programma a creare, allora creiamo un nuovo file anche qua, gender free e iniziamo a leggere la parola che l'utente vuole convertire. Una sola parola, ok? Allora noi sulla base di che cosa dobbiamo andare a decidere? Beh sulla base dell'ultima lettera. Io posso lavorare in due modi diversi, posso estrarre l'ultima lettera e poi andare a confrontare, quindi potrei dire l'ultima lettera come la estraggo da una parola. Beh, la estraggo andando semplicemente a indicizzare l'ultimo carattere, ci sono due modi di farlo, uno di mettere l'indice positivo, cioè conta a partire da 0 va avanti, quindi dovrei scrivere l'end di parola meno 1, se la parola allunga 10 lettere l'ultimo carattere è nell'indice di posizione 9, sempre 1 in meno, oppure assolutamente equivalente è usare il calcolo dell'indice al contrario, quindi passo dal fondo, meno 1, meno 2, meno 3 e sono di vari caratteri calcolati dal fondo e quindi potrei scrivere meno 1. È la stessa cosa. Il secondo modo mi sembra più chiaro oltre che più breve, ma fanno esattamente la stessa cosa. Il primo calcola l'ennesimo carattere, cioè quello di indici n-1 contando da sinistra, l'altro conta il primo carattere contando partendo da destra, cioè dal fondo della stringa. È la stessa cosa. E poi posso avere una serie di test tipo if ultima uguale o piccolo, allora fai cose, se invece l'ultima lettera è uguale a una A, no abbiamo detto, scusate, una I, allora fai altre cose, altrimenti non è ne O, ne I, fai altre cose ancora. Per silenziare gli errori sintassi metto tre puntini, come scrivere il passo? È uguale. no. Allora, cosa devo fare? Vabbè, partiamo dal caso facile, se non è ne O, ne I, stampo la parola e vado a casa, così com'era, va bene. Se invece finisce però dovrò stampare la parola e l'altra parola femminile. E la parola femminile come la calcolo? Beh, prendendo la parola esistente e sostituendo l'ultima lettera con una A. Quindi la parola femminile sarà cosa? La parola esistente tranne l'ultimo carattere, quindi devo prendere tutta la stringa meno l'ultimo carattere. Quindi lo posso fare con un operatore di slicing che mi va da zero fino a LEN di parola meno uno, a cui aggiungo in fondo una A. Allora, attenzione qua gli indici. Poi si può scrivere in modo più stretto, più compatto. Se noi abbiamo una parola che ne so, gatto, che ha un femminile regolare, questa O, allora la parola è lunga 5, quindi il LEN di parola vale 5. Le lettere sono nell'indice di posizione 0, 1, 2, 3, 4. Io voglio estrarre queste prime quattro lettere, cioè quelle di indici che vanno da 0 a 3. Nello slice devo dire che voglio le lettere da 0, compreso, a 4 escluso, perché l'indice di termine della fetta dello slicing è sempre escluso. Quindi questo non ci crei confusione. Quando vado a estrarre questo carattere, lui è l'ultimo carattere. Però con questo slice qui vado a prendere solo fino al penultimo, perché ti ho dato l'indice dell'ultimo escluso. Quindi non confondiamoci. Qui vado a indicizzare un singolo carattere, quindi quello è il suo indice. Quando invece una sintassi di tipo slicing, con due punti, l'indice di arrivo si interpreta in modo diverso, nel senso che va sempre pensato escluso, mai pensato compreso. Quindi non devo mettere un meno 2. Potrebbe sembrare strano a voi dire, ma come qua prendi l'ultimo e qua sotto invece prendi solo il penultimo. Sì, perché funziona in modo diverso lo slice dall'indicizzazione pura. E a questo punto posso stampare la parola e il suo femminile. E femminile della parola stessa. Ovviamente questo stesso giochino uguale uguale lo facciamo nel caso della i, con differenza che come terminale non ci mettiamo una A, ma ci mettiamo una E. Quindi se io faccio run di questo e metti una parola per il nostro gatto, mi scriverà gatto e gatta. Se invece scrivo gatti, mi scriverà gatti e gatte. Se scrivo invece gatte, scrive gatte e non gatte e gatti, anche se in realtà, non vedo perché non dovrei fare anche il contrario, ma il programma non era previsto. Ok? Dimmi. Questo funziona solo in casi particolari, in cui effettivamente, come dice lui, se la lettera fosse un O accentata, non è la stessa cosa di una O semplice. Quindi dovrei aggiungere un altro caso, distinto. Quindi O accentata, dovrei sostituirla con A accentata, probabilmente. Non so poi se esistono delle parole che finiscono la lettera accentata e il cui femminile sia un A accentata che abbia senso. Però è comunque un caso separato. Così come se volessimo considerare anche le lettere maiuscole. Se volessimo considerare anche le lettere maiuscole, o facciamo altri casi, o piccolo o grande, in realtà dovremmo fare casi distinti, perché una O maiuscola la vado a sostituire con una A maiuscola, tendenzialmente, e non con una A minuscola. Quindi non basta mettere, uno potrebbe dire, ma sì dai, or ultima uguale a O maiuscola. Or ultima uguale a O accentuare, siamo solo questo. Uguale uguale, vedete qua già. Questo funziona nel senso che scritto così mi riconosce anche la O maiuscola, ma me ne sostituisce con una A minuscola, che è un po' bruttino da vedere, no? Se io scrivo il gatto tutto in maiuscolo, mi scrive il gatto con la A minuscola, non va bene. E quindi conviene fare due casi diversi. Tra l'altro scrivere così, ultima uguale a O minuscolo, or ultima uguale a O maiuscolo, se mi avete detto non ci piace, sarebbe equivalente a scrivere ultima.lower uguale a O minuscolo. Cioè vado a prendere l'ultima lettera, la trasformo in minuscolo e solo la versione trasformata la confronto con la O. Quindi che lei fosse una O maiuscola, una O minuscola, alla fine confronto la faccia con la O minuscola, ma non cambio la parola. A me non piacerebbe che uno mi dicesse ok, qua mettiamo la parola in minuscolo. E perché? Se era maiuscola, la lascia la maiuscola, no? E cose del genere. Poi, come sempre, il testo scritto in due righe non ha tutti questi dettagli dentro, no? e quindi in qualche modo dobbiamo sceglierci noi. Quindi anche questo mi piace poco, lasciamo quella versione semplice, almeno. Questa slice qua si può semplificare usando da un lato lo sottinteso, dall'altro, ad esempio il primo carattere, zero, quando in uno slice, in una fetta, il primo carattere è l'inizio della stringa, o quando l'ultimo carattere è la fine della stringa, allora posso lasciarlo sottinteso o metterlo. Quindi questa stessa cosa la ricopio sotto, così posso anche cancellarlo zero. È sottinteso l'inizio. Dimmi. Allora, poi lo faccio quello che hai detto tu e vediamo cosa fa. Punto di partenza. Il punto di arrivo posso anche nominarlo col meno uno così, che non è quello che hai detto tu, eh. Questa slice è la stessa di prima, che dice il punto di partenza qual è? Sottinteso. Quindi l'inizio della stringa. Il punto d'arrivo qual è? Meno uno, cioè l'ultimo carattere, escluso però, perché l'arrivo della slice è sempre escluso, l'arrivo di un rente è sempre escluso. Quindi toglie l'ultimo carattere e fa tutti tranne l'ultimo. Ok? C'è stato un po' di farci l'occhio a volte per queste cose, ma poi sono comode. Devo dire che alla fine questa cosa qua è più, per un occhio minimamente allenato, è più leggibile di quella di sopra, perché devo andare a leggere la lunghezza, attenzione, meno uno più uno, invece qua. Meno uno è l'ultimo, l'ultimo carattere, escluso, ok, li prendo tutti tranne l'ultimo. Tu invece dicevi, se hai capito bene, meno uno, due punti, così. Meno uno, due punti, che cosa estrae? Probabilmente l'ultimo carattere. Lui praticamente prenderebbe dall'ultimo carattere fino alla fine della stringa, ma è già lui la fine della stringa, quindi è inutile perché basterebbe scrivere così. È assolutamente equivalente a fare un range in cui prende dall'ultimo carattere in poi, oppure estrago solo l'ultimo carattere. Alla fine uno ce n'è. Quindi si può, sì sì, il meno uno si può usare, gli indici negativi li puoi usare sia come punto di partenza che come punto di arrivo. Sono semplicemente molti diversi di contare. Ecco, l'ultima variante che volevo discutere con voi di questo esercizio è, esiste un'altra funzione in python delle stringhe che si chiama ends with, quindi avrei anche potuto scrivere qua, if ultima, no scusate, direttamente parola, ends with o. Cioè usavo già la funzione ends with che mi dice ritorna vero se la stringa s finisce con suffisso, cioè la parte finale specificata, altrimenti è falso. Quindi questo, se mi fosse ricordato questo metodo avrei probabilmente evitato di dovermi estrarre e calcolare l'ultima legge uguale, non è che qui stiamo andando lontano, era solo per ragionare sulle alternative possibili. Quindi vedete che questo ends with lo faccio direttamente sulla parola iniziale, quindi la variabile ultima in questo caso non mi servirebbe per nulla. Uso, è un sforzo che dobbiamo cominciare a fare, provare a pensare un pochino, un pochino più ad alto livello per vedere se ci sono delle primitive, delle librerie che ci possono aiutare e non semplicemente farci le cose a mano, carattere per carattere, come magari chi arriva da un'abitudine di programmazione un pochino più a basso livello. Dimmi, usare replace? Ah no, usare replace no, cambierebbe tutto. Se io usassi qua, a questo punto potrei dire femminile uguale parola punto replace, la O in A, lui però me ne cambia tutte, quindi mi cambia tutte le O in A. È vero che posso avere il count che mi limita il numero di cambi che faccio, però posso dire, ma senti, fammene uno solo, però lui parte da sinistra, quindi lui mi cambierebbe la prima e non l'ultima se ce ne fosse più di una. Quindi questo qua purtroppo non funziona. Avremo bisogno, se c'è, non solo, di un replace che parte dal fondo e non dall'inizio e di cambio solo la prima, però stiamo andando a fare una cosa complicata quando in realtà è semplicemente questo. Non si può mettere meno uno in replace. Il meno uno significa sottilisci tutte le correnze. Quindi mettere meno uno o non mettere il count significa fare tutte. Perché non è un indice, vedete lo chiama count, il numero, un conteggio del numero di volte. Non funziona per questo replace. Ok? Quindi questo qua, scriviamoci bene un no no. Ok? Quello che non si può fare fare, sarebbe una cosa di questo genere, magari non vi viene in mente, ma... Cioè, ok, la parola femminile cosa faccio? Faccio una copia della parola iniziale, maschile, e poi l'ultimo carattere lo sostituisco con una A. Ok? Quindi, gatto, e poi prendo la O finale e la rimpiazzo con un uguale, la segno a un nuovo valore O. Questo non si può fare perché le stringhe sono immutabili. Quindi se io provassi a fare questo, mi dà un errore che mi dice che un oggetto di tipo stringa non supporta l'item assignment, non supporta la possibilità di assegnare un nuovo valore all'item, ai suoi singoli valori, ai suoi elementi in esso contenuti. Ok? Questa è una delle forme di immutabilità della stringa, per cui non posso prendere una stringa e modificarla, ma devo costruirne una nuova andando a mettere insieme ai pezzi che mi servono. Ok? Quando vedremo le liste invece con le liste si può fare, ma con le stringhe no, per fortuna. No perché le stringhe sono immutabili. nessuno mi vieta di cambiare, fare la parola femminile e segnare ad altri valori, ma sto segnando la variabile a una nuova stringa, non sto modificando la stringa una volta che abbiamo costruito. Ok? L'anno 2000, l'anno 2000 era un altro esempio di un esercizio che era sottospecificato, non ci dava delle regole esatte, per cui bisognava un po' inventarsi la regola dagli esempi. Ho messo un paio di esempi da cui dedurre una regola, non ho messo esattamente la regola, se no tanto vale scrivere il programma. Quindi mettiamo un po' y2k e partiamo con qualcuno che mi dice in che anno è nato. Scusi, sì, anno, nascita, che anno è nascita, uguale input, int, o input, no, input, in che anno sei nato? barra a. Allora, detto così, scritto così, questo input è sotto forma di stringa, e non è sotto forma di intero. Ci conviene tenerlo stringa, oppure lo prendiamo e lo sbattiamo intero subito? No, solo l'anno, è un numero. Che valori mi può mettere qua dentro? Mi potrà mettere il valore 78, mi potrà mettere il valore 1950, potrà mettere il valore, che ne so, 2010, oppure uno che è nato nel 2005, potrà scrivere 05. Giusto? O 5, no, così non lo vogliamo, vero? Allora, il problema è che se io converto tutto in intero, questi due sono equivalenti. Quindi non mi accorgo se lui mi ha scritto questo. Quindi, leggo il dato, controllo che abbia il numero giusto di carattere che mi aspetto, che può essere o 2 o 4. Se sono 2 o 4 e sono caratteri numerici, allora poi andiamo a vedere il valore. Facciamo un passo per volta. Quindi io ho questo valore anno di nascita, fatemi mettere una S per dirmi è una stringa ancora. E allora vado a controllare se questa stringa è valida. Quindi per essere valida deve essere di due caratteri o di quattro caratteri, o due casi diversi. Se è di quattro caratteri faccio in fretta. Quindi se la lunghezza di nascita S è 4 e di quattro caratteri sono tutti numerici perché non è chi mi può scrivere ciao. Quindi nascita S punto is numeric. Mi chiama is numeric, no? Non me la dà. Is digit. Non me la ricordo. is numeric. Certo che non me la dà perché lui ha visto questa int e mi dice col cavolo che è una stringa, ok? All'editor ha capito che avevo scritto int e quindi ha capito che quella era una valore intera quindi non poteva avere metodi snumerici e non me la offriva nel completamento. Se c'è qualcosa che vi sembra strano è perché è strano. Più delle volte è sbagliato quindi conviene fermarsi e dire ma perché? Quindi ritorno a vero se la stringa è numerica cioè tutti i caratteri nella stringa sono numerici e c'è almeno un carattere nella stringa. Vabbè che ci sia almeno un carattere non è un problema perché noi sappiamo che ne abbiamo esattamente 4. Allora in questo caso è facile. Mi ha dato quattro cifre e faccio semplicemente la differenza. Quindi a questo punto l'anno di nascita potrò prendere la stringa e convertire l'intero dopodiché quanti anni ha avrà la tua età è 2023 meno l'anno di nascita. E questo è facile. Altrimenti ho un altro caso, un elif, l'altro caso in cui lui mi ha inserito due cifre, quindi riprendimi la stringa, controllo che abbia il due caratteri. Quando dico a due cifre vuol dire che ci sono due caratteri e questi caratteri sono cifre. Allora mi vado a prendere l'anno di nascita e a questo punto avrò un numero tra 00 e 99. giusto? Allora come lo interpreto? Beh potrei interpretarlo come l'anno di nascita effettivamente 1900 più nascita oppure come 2000 più nascita. Uno mi ha detto quando sei nato? Nel 70. Vabbè allora di sicuro 1970 perché il 2070 non c'è ancora stato. Uno mi dice quando sei nato nello 05 in realtà potrebbe essere il 1905, complimenti, oppure il 2005. sulla base di che cosa decidiamo? Beh potremmo decidere come spartiaco sul secolo. Se l'anno è minore o uguale a 23 lo prendiamo come anno di questo secolo, se è maggiore di 23 di sicuro del secolo precedente. Avremo le lamentele di tutti i centenari che dicono ma com'è che non riconosci correttamente la mia età? Quindi il discriminante è se l'anno di nascita è minore o uguale a 23, perché siamo nel 2023, allora il contrario, questa qua, lo correggo riportandolo a questo secolo, altrimenti lo correggerò così. qui ci aggiungo il secolo davanti e poi stamperò l'età, a questo punto con la stessa prendiprima, che posso mettere qua, no, copia, non ho fatto copia, sto facendo incolla di una riga vuota, certo, copia, incolla, la metterò qua. Altrimenti c'è ancora un else da gestire, in cui mi ha inserito qualcosa che non sia corretto, quindi formato data cartato. Ho dimenticato un print dove? Qua? No, non l'ho dimenticato, perché vedete che è fuori da questo if. Cioè non ho messo questo print, non è dentro questo ramo if, né dentro questo ramo else, ma è dopo l'intero blocco if, no? Se provi a collassarlo, vedi che è if, else, e poi faccio la print. Quindi viene fatto in entrambi i casi, intanto devo farlo in entrambi i casi, solo con un valore di anno leggermente diverso. Quindi abbiamo visto che chi è, dice che è nato nel 1980 a 43 anni, chi è nato nel 2010 a 13 anni, chi è nato nel 70 a 53 anni, chi è nato nello 05 a 8 anni. E sono i quattro casi che gestiamo. Chi è nato nel 23, strano che sappia usare il computer, età 0. E 0 o 100 lo decidiamo noi sulla base di questo simbolo qua. Io ho messo minore o uguale e quindi ho preso 60 del 23, 60 di questo secolo. Se avessi messo minore l'avrebbe preso come 1923. Ovviamente, visto che questa è una cosiddetta, non è una regola, questa è un'euristica. L'euristica è una regola di buon senso che funziona nella maggior parte dei casi. Non puoi mai dire se è esatta, non sarà mai esatta perché ci manca dell'informazione. Quindi ti diamo una risposta in output senza avere tutta l'informazione che ci serve in input e cerchiamo di fare del nostro meglio, mettendoci un po' di buon senso. Ma il buon senso non è sempre, non ti dà la certezza matematica di fare la cosa giusta. Quindi, lo metti di qua, lo metti di là, è più probabile che sappia usare un computer uno di zero anni e un centenario. Si potrebbero aprire... Ok? Allora, vediamo ancora l'ultimo esercizio che era quello del, un po' più o più, forse spaventava, ma in realtà poi era solo uno iodo, non era nulla di difficile. Sul controllo del codice fiscale. E cosa diceva? Diceva, senti, leggi, dimmi. 1.680 lo prende buono. Chi è lui per dire che tu non puoi avere 240 anni? Di nuovo, la specifica di due righe non ci permette di capire come trattare questi casi. Un test di verosimiglianza potrebbe dire, guarda, che se è scritto 1.680 probabilmente è scritto sbagliato. Però anche qua non abbiamo la certezza, dovremmo avere delle regole in più che ci dicono qual è il range di validità. Ok, allora dicevamo, codice fiscale ci chiedeva di leggere una stringa e fare, quindi come stringa, quindi non c'era bisogno di nessun int, era chiaro, e fare una serie di controlli. Controlli che a seconda delle varie porzioni di questa stringa erano diversi. In particolare, diceva che i primi 3 più 3 caratteri devono essere delle lettere. Ah, tra l'altro codice fiscale conviene considerarlo sempre in maiuscolo, quindi per non sbagliarsi mettiamolo in maiuscolo anche nel caso in cui l'utente l'avesse scritto in maiuscolo. Tanto qua il vero codice fiscale deve essere in maiuscolo. Allora, vediamo un po' che controlli dobbiamo fare. Dobbiamo fare un controllo sul fatto che i primi 6 caratteri, 3 e 3, 3 del cognometro e del nome, siano delle lettere. Poi due successivi, siano dei numeri, perché sono l'anno di nascita, poi c'è una lettera, ma non una lettera qualsiasi, perché deve essere una lettera valida per il mese, poi ci sono altri due numeri, che sono il giorno di nascita, quindi sono due cifre, ma non due cifre qualsiasi, perché tu non puoi essere nato il 90 del mese, perché i mesi hanno solamente 31 giorni, e poi c'è il luogo di nascita e il codice di controllo, che sono facili perché a priori potrebbero essere qualunque cosa. Nel caso il codice di controllo non può essere qualunque cosa, c'è un algoritmo ben preciso per calcolarlo, che se poi volete, dopo che abbiamo fatto i cicli, proviamo a implementare. Ok, quindi abbiamo una serie di controlli da fare, tutti semplici, quindi, ad esempio, un controllo sulle lettere è dire, ok, le prime sei lettere devono essere delle lettere. Ad esempio, usiamo isalto. E questo prende una sottostringa fatta di sei lettere, da 0 a 6, quindi sei caratteri, e dice se la stringa è una stringa alfabetica, quindi se tutti i caratteri della stringa sono alfabetici. Dimmi. Quindi, isalfa lo posso interrogare un singolo carattere, ho una stringa di più caratteri, lui va a verificare che la proprietà sia posseduta da tutti i caratteri della stringa. Così come i... Io adesso sto scrivendo le condizioni, e poi dobbiamo mettere dentro insieme negli if, nelle istruzioni. Allora, le altre due cifre sono l'anno, ma l'anno l'importante è che siano due cifre numeriche, poi può essere qualunque l'anno, da 0 a 0 a 9 a 9. Quindi devo controllare che i caratteri 6 e 7 siano numerici. Di nuovo, occhio ai range. 6 è escluso qua, quando lo uso come terminale, 6 è compreso quando lo uso come iniziale. Quindi è anche facile da leggere, arrivo fino al 6 escluso, e poi riparto dal 6 che prima avevo escluso, adesso lo comprendo. Arriverò fino all'8 escluso, e mentalmente 8 a meno 6 fa 2. Quindi mi dice, stai prendendo due caratteri, che sono il 6 e il 7, l'8 escluso. Quindi la differenza numerica tra l'indice di partenza e l'indice di arrivo mi dà il numero di caratteri. Il secondo carattere, l'indice di arrivo è sempre escluso, l'indice di partenza è sempre compreso. Lo trovo comodo. All'inizio può sembrare un po' strano, ma perché è escluso il secondo? Perché poi ti dà una serie di comodità anche cointuitive. finisco col 6 escluso, riprendo col 6 compreso, e 8 a meno 6 fa 2. Poi il carattere successivo è una lettera, quindi è il codice di 8 questa volta. Dimmi. No, 6 escluso da sopra. Primi 6 caratteri. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sono 6. Ricordati che contiamo sempre da 0. Quindi i primi 6 caratteri sono quelli di cui indice va da 0 compreso a 5 compreso, cioè 6 escluso. poi abbiamo quello dopo che è il mese. Chi è pigro può dire ma sì, è una lettera, no? Però non è... Oh, fate sempre attenzione quando usate questi metodi mettete sempre le parentesi, eh? Perché il metodo va chiamato, non va solo nominato. Come quando chiami una funzione. In realtà il testo ci dice qualcosa di più. Ci dice, guarda che la lettera per il mese di nascita è una di queste. A, B, C, D, E. La F non c'è, la G non c'è. Ma perché loro pensavano alla trascrizione manuale. Quindi la F si può confondere con la E, la G si può confondere con la C. Quindi visto che abbiamo 21 lettere e solo 12 mesi, abbondiamo e mettiamo delle lettere che non si confondono tra di loro. Ha anche senso. A noi crea una grana in più, ma vabbè. Però lo sappiamo fare perché basta andare a verificare se questo carattere è, ad esempio, in la stringa che contiene le lettere vaide. Quindi A, B, C, D. Poi cosa c'è? H, L, M, P. Dunque, H, L, M, P, R, S, T. Cosa ho dimenticato? Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, e sono dodici. Tra l'altro, usando questa stringa, se uno facesse un find, riuscirebbe anche a sapere in che mese sei nato. Ma noi per ora interessa solamente non decodificare, ma solo controllarlo. Poi abbiamo il mese, il giorno di nascita. Quindi sono altre due cifre che sono codice da nove a undici. Ok? L'otto era il mese. Nove. Nove e dieci, quindi da nove a undici è escluso. sono le due cifre, dobbiamo essere le cifre, del mese. Non solo. E qui va bene. Però queste cifre devono avere un certo valore. Da 1 a 31. Se noi volessimo essere più pignoli, da 1 a 30 o 31 o 28 secondi del mese, però fermiamoci, no? A un certo punto. Quindi vuol dire che non è solo vero questo, ma è anche vero che il valore numerico di questa cosa qua, quindi l'int di queste due caratteri, deve essere compreso tra 1 e 31. Minoro uguale a 31. Oppure, nel caso delle donne, si somma 40. Quindi deve essere compreso tra 41 e 71. l'intero range da 0 a 100 ha dei buchi. 0 non va bene, dall'1 al 31 può andar bene, dal 32 al 39 non va bene, dal 40 al 71 sì, dal 72 in poi no. qui ci sono i frammenti, poi li dobbiamo mettere insieme in un'espressione unica, no? Poi? Poi abbiamo, vabbè, poi è facile da qui in poi, abbiamo quello successivo che è la provincia, scusate no, la regione, quindi chi è nato in Piemonte sarà, no, non è vero, scusate, come l'ho detto, non c'entra niente la regione, sono 4 caratteri di cui una lettera e tre numeri che rappresentano complessivamente i comuni di nascita. Quindi in questo caso quella successiva è l'11 che abbiamo lasciato fuori prima, quindi la prendiamo adesso, deve essere alfa, e quelli due successivi, i tre successivi, quindi da 12 a 15, devono essere numerici. E infine l'ultimo deve essere una lettera che è il codice di controllo. E andiamo a vedere, 15 è proprio l'undicesimo, è l'ultimo carattere perché nel codice fiscale abbiamo detto che è di 16 caratteri, quindi siamo arrivati giusto in fondo, per fortuna. E allora, se tutti questi qui in qualche modo hanno ragione, alla fine scriverò il codice fiscale corretto. come li metto insieme queste cose qui? Allora, potrei mettere un'unica grande if con tutte queste condizioni in and tra di loro deve essere vero questo e questo e questo e questo e questo e questo eccetera. Quindi scriverei all'inizio if aperta tonda chiusa tonda qua in fondo e ovviamente poi devo mettere qua and and perché ho messo questa aperta tonda? Per dire a Python guarda che questa espressione qua non finisce in questa riga, continua, no? Quindi vai avanti anche su righe successive and and così, no? Poi qui c'è un errore logico ma vediamo tra un attimo quindi abbiamo un if con un'istruzione sola if che è quella della riga 3 la cui espressione logica l'espressione booleana è lunga 10 righe che è fatta di tanti pezzettini che devono essere tutti veri contemporaneamente tranne questo che è un problema dimmi qua qua sì infatti stavo dicendo attenzione che questo qui invece è sbagliato perché se lo leggiamo vedete anche che è impossibile che la stessa cosa lo stesso numero sia compreso tra 1 e 30 e contemporaneamente tra questo e qui ci vuole un'orta questi due e un paio di parentesi per isolare queste due cose dal resto perché visto che se abbiamo tutti gli operatori n e tutti gli operatori or va bene verranno eseguiti in sequenza quando abbiamo un miscuglio di n e or dobbiamo essere espliciti riguardo all'ordine con cui facciamo l'operazione quindi devono essere numeri e questi numeri devono essere in questo o quest'altro intervallo e poi altre cose e poi la carta successiva eccetera eccetera quindi questa condizione qua mi dice queste tre cifre questi due caratteri soddisfano due condizioni sono dei numeri più un'altra cosa quest'altra cosa quando ci vado dentro mi dice sono in questo loro valore intero è in questo range oppure in quest'altro range ma va bene una qualunque delle due quindi per questo ci mettiamo un oro invece tutte le altre condizioni devono essere tra di loro tutte in end perché devono essere tutte rigorosamente vere dalla prima all'ultima altrimenti il codice fiscale non è valido quindi questo è un modo in un'istruzione di risolvere il programma io ci metto un codice fiscale e mi dice che è corretto se invece andassi a mettersi qualcosa leggermente diverso adesso bisognerebbe provare a fare tutta una serie di cose sbagliate sbagliate quindi ho messo un 7744X999Q come prima ma ho messo un 2 qua dove c'era il nome e allora beh in questo caso scusate non mi stampa nulla perché avrebbe dovuto stampare il codice fiscale errato non ho messo l'erso in fondo mi sono dimenticato ok? questo per ciò che ci richiede il testo è corretto ha due problemi uno che se volessi anche dirti perché è sbagliato non posso perché alla fine posso dirti è sbagliato ma non so più qual è io so che di tutta quella catena di condizioni che ho preteso che fossero tutte valide una almeno una una due tre tutte era sbagliata ma non ti so più dire quale ah tra l'altro scusate mentre parlavo mi sono accorto di un errore se lui anziché scrive tutto scrive tre lettere no perché sono io scrive dunque un numero A, B, C, D, E, F no codice errato no quello che stavo pensando è se è troppo lungo o se è troppo corto perché quando io vado a leggere il codice di 8 e 8 non esiste dovrebbe darmi errore e quindi ah sì devo ancora aggiungere questo qua perché se il range non trova niente restituisce la stringa vuota non si arrabbia ma se vado a pescare un singolo carattere e non c'è lui si arrabbia quindi devo ancora aggiungerne due A, B, C, D, E, F 22 e mi fermo qua e lui non mi stampa codice errato ma mi dice string in the sort of range quindi provo a spiegarmi meglio io sto accedendo la posizione 8 di una stringa dando per scontato che esista il nono carattere cioè quello in posizione 8 però se la stringa ha meno di 9 caratteri questo mi dà errore l'indicizzazione di un singolo carattere mentre invece quando vado a fare operazioni sotto stringa questa non dà errore nel caso in cui non ci sia semplicemente restituisce una stringa vuota se io prendo una stringa che chiamo ABC e prendo il terzo carattere mi dice C prendo il quarto carattere mi dà errore perché non esiste se faccio una slice dal secondo al terzo carattere me la dà se faccio una slice dal quinto all'ottavo carattere mi restituisce stringa vuota anziché dare un errore quindi è un comportamento leggermente diverso se strago una slice nel caso in cui la slice vada fuori dalla stringa mi dà stringa vuota se faccio invece un'indicizzazione puntuale a un singolo elemento se questo fosse la stringa mi dà errore in ogni caso dovrei controllare la cosa più facile di tutte è che questo codice sia lungo 16 come prima cosa se lo controllo come prima cosa nel momento in cui questa prima condizione fosse falsa tutto il resto delle condizioni non viene neppure guardato Python non esce a una valutazione cosiddetta a corto circuito delle espressioni booleane complesse cioè non appena riesce a scoprire quale può essere il valore finale smette di guardare le altre cose quindi se io ho una serie di end e il primo pezzo è falso non mi serve che guardi tutto il resto perché so già che il risultato sarà falso e quindi anche se in tutto il resto ci sono delle espressioni che potrebbero dare errore ciò che non vengono valutate quindi queste condizioni booleane messe per prime qua svolgono anche un ruolo di guardia cioè vai avanti solo se questa è vera e quindi ti protegge lo potevamo fare anche con la rice quadrata negativa mettere condizioni multiple se c'è un pezzo falso il resto non va neppure a guardarlo quindi potrebbe anche dare errore di calcolo ma tanto non viene calcolato quindi lui si ferma nella guardare l'espressione non appena sa che conosce il risultato e in una serie di end conoscere il risultato vuol dire vederle tutte fino in fondo se sono tutte vere ma fermarsi la prima volta che ne trova una falsa se invece fosse una catena di or lui si fermerebbe non appena ne trova una vera perché sa che il risultato poi viene vero e invece deve andare avanti se le trova tutte false man mano che le trova false ok e arriviamo però al pensiero che quindi mi ho dimenticato questo la lunghezza deve essere questa né troppo lunga né troppo corta se volessi stampare dei messaggi esplicativi vorrà dire che non posso più fare un unico if e dovrò farne tanti separati no? quindi io potrò dire se lenghe di codice uguale 16 else print lunghezza errata e se questo lenghe è vero la prima condizione allora vado a verificare la seconda condizione if la seconda condizione era questa le condizioni sono le stesse le aggiusto solo in modo diverso if no ho preso quella sbagliata copia incolla incolla allora altrimenti dirò che l'errore è che cognome e nome non alfabetici se invece sono alfabetici quindi passate la condizione sono in questo if allora vado a prendere la terza condizione if is numeric allora se è numerico va bene altrimenti dirò che l'anno non è numerico e quindi ho questa catena di if annidate che sostituisce la catena di end consecutive è un po' brutto da vedere così per due motivi uno perché rientro troppo il codice alla fine ho tanti livelli anidati dopo un po' anche se VS Code mi fa vedere le linee verticali dopo un po' mi perde il filo sicuramente e l'altro perché non è affatto banale capire qual è il messaggio di errore associato a una determinata condizione perché io ho le condizioni in un certo ordine e i messaggi di errore nell'ordine inverso la prima condizione l'ultimo messaggio la seconda condizione per l'ultimo messaggio non è sbagliato un po' incasinato solo quindi se dobbiamo fare una cosa di questo genere a volte si ragiona al contrario si ragiona sulle condizioni negative se io faccio la stessa cosa con un note allora vorrà dire che potrò stampare l'errore subito e il caso normale nell'else la seconda condizione che devo aggiungere la posso infilare con un sif sempre al negativo quindi questa sarebbe la condizione che mi aspetto se così non fosse allora stampo il messaggio di errore che era cognome quindi ho una soluzione più piatta in cui ho tutta una serie di el sif el sif el sif uno dopo l'altro quindi non ho tanto non ho rientro e ogni volta che verifico una condizione verifico se questa è sbagliata agisco subito e se vado avanti vuol dire che le varie condizioni che ho incontrato via via erano giuste e quando arriverò al fondo è solo perché erano tutte giuste ci piace un po' di più se volessi trovare un difetto a questo è che proprio per la sua natura di el sif mi stampa un solo messaggio di errore però se io nel mio codice fiscale avessi sia la lunghezza sbagliata sia il cognome che non è alfabetico sia la data che non è numerica lui mi stampa solo il primo errore che incontra perché gli altri el sif non le va a vedere se è entrati in una di quelle precedenti fatemi aggiungere ancora una terza così chiaro non le metto tutte perché se no però con pazienza le potremmo mettere offline no? questo era annuner numerico eccetera no? quindi questa è più pulita è meno disordinata in un certo senso ma è esattamente equivalente a questo cioè trova il primo errore e si ferma se volessi stampare tutti gli errori cosa potrei fare? fatemi fare una copia di questo codice qua sotto e togliere questi elif non guardate l'elif qui è cambiato completamente mentre prima c'erano tante alternative e entrava solo in una qui ho fatto tanti test che sono uno indipendente dall'altro controllo il primo se non va bene stampo il messaggio poi vado avanti comunque controllo il secondo se non va bene stampo il messaggio poi vado avanti comunque cioè non escludo i casi successivi se ne ho verificato uno negativo in precedenza quindi questi sono i controlli tutti indipendenti tra di loro e quindi potrei entrare in uno in due in tre in cinque insomma adesso magari il primo era un po' una guardia di protezione quindi lo metterei a parte però lasciamo per un attimo questo messaggio stiamo ragionando sulla struttura del codice ok quindi qui vuol dire che se ho tre anomalie me ne stampa tutte e tre il problema è che questo else qui non funziona più perché se io leggo questo codice così scritto questo else è relativo solamente a questo blocco if quelli precedenti possono essere andati bene o male e chi se frega if questo l'ultima else stampa ok qui questo else è relativo a tutto perché è una catena unica di else if con l'else finale che viene attivato se tutti quelli precedenti non sono entrati qua invece ho istruzioni indipendenti questa può esserci o non esserci ai fini dell'esecuzione di quella dopo e questa può esserci o non esserci ai fini dell'esecuzione di quella dopo che è questa allora va tutto bene perché sta un po' bene i messaggi d'errore ma come faccio a capire quando o sotto quale condizioni posso stampare ok non chiaramente con questo else è un else di tutti non c'è e posso solo dire sentite ok abbiamo stampato ci siamo divertiti abbiamo stampato tanti messaggi d'errore e posso solamente chiedermi se non c'era nessun errore allora stampo che era ok se non hai stampato nessun messaggio di errore allora puoi stampare che è ok che a parole sono tutti d'accordo ma nessun errore cos'è potrebbe essere tranquillamente una variabilina booleana vero o falso che se ho stampato un messaggio di errore la metto falsa non è vero che non c'è nessun errore ne ho appena stampato uno non è vero che non c'è nessun errore ne ho appena stampato uno e ovviamente la inizializzo a vero cosa ho fatto? alla riga 44 non ho ancora fatto nessun controllo quindi mi chiedono va tutto bene? certo che va tutto bene non ho ancora guardato niente quando ti chiedo come sei con lo studio? a posto non ho ancora aperto il libro non ho ancora trovato nulla che non capissi e quindi posso dire non ho ancora visto nessun errore poi faccio una serie di controlli in ciascuno di questi controlli può darsi che trovi un errore nel qual caso stamperò il messaggio e mi segno da qualche parte in quella variabile che ho stampato il messaggio dicendo vabbè però da questo momento in avanti non posso più dire che non ho trovato nessun errore perché uno l'ho trovato l'ho anche stampato quindi ho una cosa che nasce vera e poi può diventare falsa un po' come nei giochi di ostacoli nasce vera e poi c'è una serie di ostacoli se ne fallisce almeno uno è fallita se invece si supera tutti è superata infatti l'unico caso in cui nessun errore che nasce vera qua sia ancora vera qua è quello in cui abbia fatto tutti questi controlli e tutti questi controlli abbiano detto non c'è un errore se anche solo un controllo di questi è fallito allora questa variabile è diventata falsa e non c'è più niente che la rimette vera una volta che hai fallito hai fallito e qua sotto dici if falso questo non è un errore sarà falso e quindi non stamperò codice ok ma mi rincuoro il fatto che non stampo codice ok quando di sicuro ho già stampato almeno un messaggio di errore ok cosa sto facendo mi sto cercando di ricordare in un certo punto del programma che cosa è successo in altri punti non è una cosa nuova prima calcolavamo delta in un punto e poi usavamo delta in un altro quando facciamo le equazioni di secondo grado usiamo dopo un valore che ho calcolato prima semplicemente qua questo valore non è un valore reale è un valore logico che non mi dice quanto fa una certa cosa ma mi dice se è successa una certa cosa ok le variabili poi uno può dire true false uno può mettere invece qua sopra avrei potuto scrivere numero errori uguale 0 e poi ogni volta che stampavo un errore lo incrementavo errore uguale errore più 1 e alla fine potevo dirti anche quanti errori c'erano è un altro modo in questo caso non ci serviva le variabili chiamate usate in questo modo sono dette variabili con le dette bandiera bandierina in dialogo flag ecco vi dici io metto la bandierina qui se nessuno la tocca quando torna dopo un po' è ancora su se qualcuno la toccata è caduta se la vedo caduta ragionamento che facciamo però è l'inverso se la vedo caduta vuol dire che qualcuno l'ha toccata se la vedo su vuol dire che nessuno l'ha toccata quindi nessuna delle condizioni dei casi in cui poteva accadere è mai avvenuto quindi posso dedurre in unica variabile il fatto che sia o non sia successo almeno una volta una certa cosa tra una serie di condizioni io lo chiamo anche variabili marmellata perché sono quelle che dicono ah io non ho mangiato la marmellata no però hai le mani sporche quindi non so quando non so dove non so chi ma di sicuro l'hai mangiata perché ho la prova alla fine che una certa cosa è successa questo è i flag non sono variabili diverse dalle altre noi noi comincieremo a dare dei nomi delle variabili non tanto per quello che sono ma per quello che ci servono per l'uso che ne facciamo la variabile la chiamiamo svolge il ruolo di bandierina se ci serve a ricordare in un punto del programma se in un altro punto del programma è successa o meno una certa cosa e in particolare vedremo che saranno molto utili quando poi faremo più cose dentro un ciclo in cui succederanno molte cose e alla fine dovremo ricordarci cosa è successo ma questo è l'argomento che inizieremo dopo l'intervallo quindi ci rivediamo alle precedenti grazie